All'inizio dei tempi non c'era assolutamente nulla, ma c'era solo una piccola cosa senza importanza ed era la noia. Gnambe, il creatore dei bantù, si annoiava da morire. Questa noia finirà davvero per uccidermi. Sono io che ti ho svegliata, immaginazione? Signore, non importa, sai bene che accetto tutto ciò che mi viene da te. Sai, io ho un problema, la noia sta per uccidermi. Signore, ho trovato la soluzione al tuo problema. E quale sarebbe questa soluzione? Costruisciti una sanza, signore. E appena comincerai a suonarla, la noia sparirà e la smetterà di tormentarvi. E appena comincerai a suonare. E appena comincerai a suonare. e va tutto bene fino a quando una delle lamelle introduce una nota falsa eh, i bantù dell'Africa non danno nessuna importanza al colore della pelle sanno benissimo che gli uomini sono usciti tutti dalla stessa sansa i bantù dell'Africa non danno nessuna importanza al colore della pelle 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 non danno nessuna importanza al colore della pelle